Attenzione, sta prendendo posizione, 41 flessioni, si scalda su due dita, cartitone. Il braccio sembra correttissimo perché ha allungato perfettamente. Stiamo vedendo una cosa unica al mondo, su un dito. 41 era il suo record, è stanchissimo, stremato. Attenzione! Non so se ce la fa. Il totale, realizzato da Siergui Chong, è di 46 gols! È un Guinness World Record! Grande! Bravo! È un Guinness World Record! Ai 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 ai, che bei momenti, guardate com'è felice perché per loro è una cosa, è un primato mondiale. Grazie! For! Grazie a tutti